Buonasera dottor Jacopo Dalai, psicologo e psicoterapeuta, seminario di stasera stupefacenti giovani. Allora io le chiedo come mai la necessità di creare, di organizzare un seminario su giovani e sostanze e soprattutto i significati che si celano dietro al titolo. Benissimo, due cose importanti forse ci siamo detti o abbiamo provato ad affrontare stasera. Da un lato abbiamo riflettuto sulle nuove forme di abuso, di dipendenza, chiamiamola come vogliamo, che sembrano andare nella direzione insomma un po' imposta da questa società. Mi drogo per doparmi, per essere sempre all'altezza eccetera eccetera in una società dove in realtà a fronte di un imperativo dove bisogna essere chissà chi le possibilità sono sempre meno. Il rischio però di stare troppo su questo su questi concetti è quello di non dare ai ragazzi la possibilità di pensarsi come delle persone stupefacenti ovvero che ci possono stupire. Allora stasera come dire a partire da questo da questi temi e da questi problemi abbiamo riflettuto insieme secondo me anche in modo molto interessante come dire sul cercare insieme ai nostri ragazzi generatività per il futuro. Pensare insieme a loro di stare dentro un contesto per quanto incerto però stare insieme a loro e costruire insieme a loro dei progetti. Perfetto, grazie mille dottora, a presto. Grazie mille.